ben ritrovati a quarta di copertina su obiettivo news nei nostri studi oggi parleremo di divina commedia come non l'avete mai vista e lo faremo con un autore molto particolare raffaele rinaldi che è venuto a trovarci e che è un personaggio abbastanza particolare perché un ingegnere aerospaziale non ci farà viaggiare tra le stelle ma ci farà viaggiare attraverso i versi di dante tutti abbiamo avuto modo di studiare la divina commedia tutti ci siamo imbattuti in inferno purgatorio paradiso ma in lui quest'opera ha avuto un effetto molto particolare tanto da spingerlo a creare un volume molto interessante pubblicato al momento con le pubblicazioni di amazon on demand quindi reperibili sia se amazon e lo diciamo perché è importante in offerta speciale come ebook su ibs in questo periodo un'ottima idea regalo da sfruttare per natale per esempio perché è un modo per avvicinare magari un ragazzo giovane che però ha già delle basi di un certo tipo alla lettura di dante da un punto di vista molto insolito quindi cominciamo proprio conoscendo il nostro ospite raffaele i regni di dante è un'opera molto particolare forma e dimensione dei regni ultraterreni nella divina commedia ma come è nata questa passione per la divina commedia per te che poi hai fatto una scelta di studi e di vita completamente diversa sei un ingegnere ti occupi di meccanica quindi insomma la tua vita è fatta di scienze di tecnologia sì allora innanzitutto ringrazio per l'opportunità di quarta di copertina allora sì effettivamente hai ragione inganna un po il fatto che io abbia studiato ingegneria e poi sia venuto fuori con un'opera come questa però in realtà il paradosso è solo apparente diciamo così perché in realtà dante è in grado di inserire all'interno della sua opera anche materie scientifiche e quindi anche molta matematica e architettura e anche stelle e soprattutto tutta astronomia quindi in realtà vi condurrò tra le stelle perché e oltre se mi permetti perché il paradiso è effettivamente un viaggio fra le stelle come nasce la passione in realtà c'è sempre stata fin dalle superiori e quindi tu hai studiato la divina commedia con particolare interesse ti piaceva comunque mi piaceva sì sì era pur sempre una materia scolastica quindi c'erano anche i brutti voti se posso beh certo se posso confessare con le luci e ombre di tutte le batterie scolastiche con tutte le cose quindi questa cosa c'è stato un accantonamento diciamo una volta che ho concluso gli studi del liceo scientifico per per studiare ingegneria ma poi l'ho ripresa e l'ho ripresa perché non volevo tra le altre letture perché non volevo che il mio solo interesse fosse quello di di turbine di matematica di formule fisiche mi son detto provo ad ampliare l'orizzonte leggiamo anche qualche classico tra cui c'è finito di nuovo dante dante ieri nella divina commedia e quando hai cominciato a pensare che il viaggio di dante potesse essere anche un viaggio nel tuo mondo di scienza poi in fondo c'è stato un momento è stato un momento io ho lessi un articolo di un matematico torinese o di freddi che pubblicizzava diciamo così uno studio fatto da un rumeno su quello che poteva essere il vero aspetto dell'universo di dante e questo studioso richiamando geometrie non equilidee proponeva una lettura molto insolita e cos'è la cosa che ti ha colpito di più di quella prima lettura la curiosità maggiore che ha fatto a nascere in te quella molla alla ricerca il fatto che dante potesse essere letto secondo schemi che nella scuola non sono contemplati a torto a ragione nel senso che nessuno può dire che qualcuno abbia ragione qualcuno abbia torto sono letture e se si rimane affascinati da una lettura ortodossa ben venga nel senso va bene lo stesso se si rimane affascinati da una lettura eterodossa allora la cosa prende un'altra piega e l'incipit ha voluto che io abbia cominciato a interessarmi di letture sempre più eterodosse quindi mi andavo a cercare autori che avessero fatto di delle letture sempre più fuori dagli schemi uno potrebbe dire vabbè ma lì perdi il filo nel senso che chiunque inventa una cosa stravagante ha scritto di dante tu gli vai dietro ho cercato di mantenere insomma la barra dritta quindi se la lettura era molto molto stravagante no la lasciavo potremmo fare degli esempi però c'erano delle degli autori che proponevano delle letture molto interessanti quindi diciamo subito che questo i regni di dante è una visione di dell'opera di dante alighieri ma non buttata lì fantasiosa ma basata su una serie di studi e tu da questi studi come mi spiegavi anche durante la nostra chiacchierata conoscitiva che ha preceduto questa registrazione hai tratto degli spunti che poi hai elaborato fatto tuoi e trasformato in questa ricerca esatto il percorso di analisi è stato fondamentalmente questo quindi nelle varie letture che all'inizio erano solo le letture della sera mettiamola mettiamola così è venuto fuori che c'era la possibilità di costruire una sorta di quadro una sorta di quadro che fosse coerente con se stesso diciamo così e questo mi ha portato a elaborare un corpus diciamo quando hai capito che questi tuoi appunti questi tuoi studi potevano diventare un'opera è anche un'opera molto importante perché è molto corposa e devo dire anche curata dal punto di vista della dell'immagine della grafica quindi anche molto accattivante sì grazie non so se ci sia stato un momento particolare forse se proprio posso dirlo è quando ho cominciato a leggere di autori che cercavano di descrivere le architetture dei regni adesso può far sorridere perché se si pensa al paradiso difficile parlare di architettura si deve parlare di altre cose però per inferno e purgatorio la cosa ha senso e quindi nel momento in cui ho cominciato a leggere gli autori che si erano cimentati con questo problema che annoso e annoso questo problema che non è stato ancora risolto e fortunatamente non sono io a risolverlo e questo donna sicuramente più fascino alla scoperta del regno ultraterreno di dante senza dubbio per cui questo può voler dire che non si finirà mai di studiare però nel momento in cui ho cominciato a studiare come dicevo più autori che si occupavano di questo di questo aspetto della divina commedia allora ho cominciato a mettere insieme una serie di cose scartando anche tra l'altro moltissime teorie perché non rispondevano a quello che secondo me era il vero intento non so come posso dire è stata una sorta di chiamiamolo sesto senso buon so ecco dante aveva come guida lo sappiamo tutti virgilio sì io qui oggi seguo te quindi io sono nella parte di dante e tu in quella di virgilio ma tu per raccontare questi questo tuo percorso questa tua avventura nei regni ultraterreni hai scelto una formula che addirittura ricorda un po quella degli antichi greci perché è un po un dialogo tra un insegnante e uno studente perché questa scelta e come sono questi personaggi perché io ho dato un occhiato e ho visto che hanno delle caratteristiche un po particolari sì allora la scelta è nata da un necessità necessità perché volente o nolente la prima stesura non era così accattivante come 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 argomento non era non era non era e quindi il primo la prima forma era quella del saggio io ho provato a far leggere il primo il secondo capitolo parte eccetera eccetera i miei conoscenti e tutti i migliori consegnavano dicendo non erano provati no non l'ho letto non ho avuto tempo perché parte da pagina 3 e non da pagina 1 quindi a fronte di queste di queste osservazioni ho detto forse hanno letto che c'era scritto pagina 3 se sono fermati però c'è stato un amico che penso non ringrazio mai abbastanza che mi ha detto perché non provi a romanzarlo e devo dire che sulle prime questa cosa mi ha lasciato abbastanza turbato turbato nel senso un po interdetto il mio primo pensiero è stato non è un gran consiglio questo che mi stai dando perché è un saggio cosa dovrei fare una storia anche perché poi si rischia di far pensare che quello che tu scrivi sia completamente inventato invece è basato su degli studi esatto quindi uno quando dice a è una storia romanzata sembra che dove hai potuto studiare hai studiato dove non è potuto studiare inventato e poi più o meno questo formaggio e invece la cosa ha preso piede perché mi è venuto in mente di strutturarla appunto attraverso il dialogo quindi non c'era niente di meglio di una forma in cui c'era un personaggio che spiegava e un personaggio che acquisiva le informazioni che è poi la forma del saggio chi legge e chi acquisisce le informazioni e chi scrive e chi le informazioni le fornisce io ho accorciato le distanze e quindi ho messo sia chi spiega che chi il docente quindi il docente che poi non è sempre così e chi riceve le informazioni nello stesso posto quindi chi lo legge può identificarsi in chi spiega o in chi anche legge a seconda di quanto ne sappia di più o di meno di me perché non è che sia allora iniziamo il nostro viaggio entriamo nell'inferno di solito il viaggio inizia da lì quindi ok la caratteristica dell'inferno diciamo più importante quella cui forse non si pensa quando si studia la divina commedia a scuola allora questo è fare un po un uno spoiler però va bene beh non diciamo come va a finire diciamo come va a finire secondo me la caratteristica principale dell'inferno è che non si trova immediatamente sotto la superficie della terra quindi non è come lo si immagina generalmente per cui si immagina la superficie della terra lo spaccato quindi questo cono gigante che va a finire fino al centro e le sue dimensioni non sono paragonabili a quelle dell'intero pianeta terra per come lo immaginavano ai tempi di dante è molto sono molto più contenute quindi lo sviluppo geometrico dell'inferno è molto molto ridotto questo vuol dire che tra la superficie della terra quindi dove parte la divina commedia quindi la selva oscura e l'incontro tra dante e virgilio e dove comincia l'inferno c'è tantissimo molto molto più spazio di quello che può sembrare leggendo esatto e cos'è che ti ha fatto pensare a questa cosa qual è l'elemento che fa pensare che ci sia insomma dante per entrare nell'inferno scenda parecchio una serie di indizi lui non 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 fa mai intendere qui bisogna fare un po un salto che sembra pindarico però adesso cercherò di spiegare il perché quando attraversa le malebolge lui non dà mai l'idea di fare grandi traversate ma sempre di avere a che fare con spazi contenuti non parliamo di ridotti perché ridotto cosa vuol dire perché le malebolge perché lui nelle malebolge dà delle indicazioni di quelle che sono le dimensioni di questi di queste bolge appunto molto precise e si ripete anche quindi da un'indicazione su sulle bolge in una circostanza in una particolare bolge la ripete nella successiva aggiungendo un ulteriore indicazione di spazio quindi da una parte lascia intendere che queste volte sono di dimensioni contenute e dall'altra fornisce le dimensioni effettive se io comincio a dimensionare la parte relativa alle bolge che è una sorta di universo interno all'universo di dante posso dedurre tutta una serie di misure fino a determinare l'intera architettura del dell'inferno se io devo dar credito a questo aspetto non posso ammettere che il primo cerchio si sviluppi addirittura alla superficie della terra perché tra il centro del del pianeta e la superficie passano qualcosa come 3.200 miglia per come la vedevano gli antichi e quindi questo deve per forza comportare che quello che ho detto prima che l'inferno si sviluppa molto al centro del ecco informiamo i nostri ascoltatori che nel libro sono presenti anche delle immagini che possono aiutare a comprendere un po meglio quello che stiamo dicendo e che stanno scorrendo tra noi due durante la nostra intervista quindi i regni di dante è una lettura che permette di essere scientifica letteraria storica si rivolge a ragazzi che devono già comunque avere una base diciamo di scuola superiore sì anche anche di più volendo il pubblico a cui alla fine mi posso orientare diciamo così è incluso se posso permettermi una sorta di metafora tra al di sopra di coloro che non hanno proprio una grande dimestichezza con la divina commedia per cui non hanno un grande interesse e bis e sotto a chi invece ha lo scibile della divina commedia sulle mani classico il proprio sì sì che sanno che hanno che hanno tutte le risposte e bisogna avere un po di mente aperta bisogna avere un po di vedere questo viaggio se si ha se si hanno troppe risposte questo libro non ne fornisce di più se non se ne hanno o se non si hanno abbastanza domande e contiamo in questo senso quel libro non fornisce può essere una lettura un po difficile continuiamo il nostro viaggio perché il tempo è tiranno io vorrei farti fare tutto il percorso prima di terminare l'inferno purgatorio so che è il regno che forse ti affascina di più perché ne parli con molto trasporto con molta curiosità il purgatorio sì sì il purgatorio è la cantica più bella secondo me e il regno del purgatorio non è da meno diciamo così quindi dante se è vero quello che ho scritto lì ha immaginato un ambiente molto particolare con il purgatorio la struttura e le dimensioni del purgatorio per come lui concepisce la genesi del dei due regni o come si concepiva all'epoca devono parlarsi perché sappiamo che dalla caduta di lucifero al centro della terra parte del del materiale è eruttato fuori dalla superficie lasciando in all'interno del pianeta terra il cavo infernale e questo materiale che è eruttato al di fuori è andato a formare la montagna del purgatorio se noi ammettiamo che l'inferno abbia uno sviluppo molto esteso quindi parta da sotto la superficie della terra e quindi il suo volume interno sia praticamente un terzo dobbiamo ammettere che il purgatorio abbia un volume analogo il che ne farebbe una montagna altra alta 3.200 miglia io non riesco a immaginarla una cosa del genere secondo me non ha alcun senso immaginare una cosa del genere moltissimi avranno pensato la stessa cosa l'ho pensato anch'io è una delle degli aspetti che mi ha fatto desistere dal credere che l'inferno potesse avere quella conformazione perché bisognerebbe ammettere che o che il purgatorio abbia quelle dimensioni oppure che la terra che non occupa più il cavo infernale abbia trovato posto da qualche altra parte in questo tanto è molto preciso non lascia spazio a grandi dubbi molto realista da questo punto di vista e quindi il purgatorio si sviluppa seguendo questa linea guida quella secondo la quale i due regni hanno molti aspetti nelle loro architetture analoghi fra loro e devono averlo perché sono uno un po l'antitesi dell'altro il paradiso si devono integrare sì il paradiso fa già la loro genesi l'integra perché se l'uno è il materiale si si fu riuscito dall'altro chiaramente sì 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 posso fare un esempio virtualmente io potrei rimettere il mondo del purgatorio all'interno del dell'inferno e questo dovrebbe più o meno combaciare non lo fa perché il profilo dell'inferno e del purgatorio non sono identici però i materiali più o meno dovrebbero essere gli stessi secondo la logica di dante tant'è vero che lui descrive le malevolge che sono una volta ancora una volta il cuore dell'inferno come un luogo fatto di pietra ed è posto molto all'interno all'interno dell'inferno quasi al suo culpine alla sua apice di contro alla vetta del purgatorio io ho un ambiente fatto quasi completamente di pietra basta leggere i canti associati a alla superbia quindi le due zone che dovrebbero combaciare all'interno come se fossero due regni sono fatti dello stesso materiale quindi è un esempio di come i due i due mondi vadano un po su binari paralleli e poi abbiamo il paradiso ovviamente e poi infine abbiamo il paradiso che fa proprio dove e come si colloca allora il paradiso è strutturato secondo la filosofia aristotelica e poi successivi aggiustamenti dalla scolastica eccetera eccetera è composto da una serie di cieli che dobbiamo immaginare come delle sfere fatte di materiale trasparente diafano all'interno del quad sulla superficie delle quali sono incastonati i pianeti che caratterizzano il cielo c'è lo stesso quindi gli antichi pensavano che la luna fosse una margherita una gemma incastonata sulla superficie di questo cielo trasparente questa sfera su questa sfera sì e così tutti gli altri tutti gli altri pianeti e la terra è posta ovviamente fissa e al centro del dell'intero universo il sole non fa eccezione veniva considerato un pianeta quindi quando si parla di pianeti si parla di tutti i corpi celesti tranne la terra quindi la luna il sole eccetera eccetera sono pianeti oggi fa sorridere però e beh dobbiamo dobbiamo anche trasferirci mentalmente in quella che era la cultura del tempo del tempo esatto il paradiso nella sua complessità è caratterizzato e costituito da due ambienti separati diciamo così che sono l'universo visibile dove c'è il trascorrere del tempo dove c'è qualcosa che ricorda ancora la materialità che contiene la terra anche se i cieli sono a distanza della terra non si contaminano almeno fin dove non arriva allora l'ombra della terra e l'empireo e qui torna al discorso che facevamo all'inizio solo accennato in cui questo studioso rumeno richiama addirittura i principi della geometria non euclidea per descrivere veramente come fosse fatto il l'universo di dante noi sui libri di scuola abbiamo la rappresentazione di un italiano caetani che non avendo molto da fare si era messo a studiare la divina commedia aveva immaginato come potesse essere cercava di immaginare come potesse essere il paradiso e quindi aveva disegnato i vari cieli e le varie i vari pianeti e tutto quello che dante vede nel suo peregrinare quindi l'aquila nel cielo di Marte la croce nel cielo di Marte l'aquila nel cielo di Giove la scala Saturno e poi colloca l'empirio e la rosa dei beati in cima come se fosse una sorta di cappello in uno schema che perde totalmente di simmetria non si capisce per quale ragione noi abbiamo parlato di simmetria tra inferno e purgatorio e non possiamo parlare di simmetria tra paradiso visibile e imperio quindi in questa logica trasferendo questo concetto di simmetria dobbiamo ammettere che quella configurazione di rosa dei beati e di die coriangelici posta sopra come se fosse una sorta di copricapo non possa funzionare quindi bisogna introdurre nuovi concetti geometrici come le geometrie non euclidee e a quel punto se si fa una sorta di salto si può arrivare a descrivere un universo più coerente con quello che descrive Dante qui è doverosa una sprecisazione Dante non conosceva le geometrie non euclidee siamo lontanissimi quindi questo non vuol dire che io sto mettendo in bocca a Dante che lui conoscesse le geometrie non euclidee o che abbia immaginato il proprio universo seguendo dettami che non potesse conoscere questo vuol solo dire che lui ha cercato come essendo un grande studioso e una grande mente di coniugare il mondo aristotelico quindi delle sfere della simmetria con il mondo cristiano in cui veniva posto un nuovo cielo che era l'empirio che era la sede di Dio quindi in questo tentativo lui cerca di coniugare i due mondi e può farlo solo dicendo che l'entità colui che contiene tutto l'universo è Dio stesso ma neanche il centro per lui questa era una dottrina filosofica religiosa perché deve conciliare mondo aristotelico e mondo cristiano ma noi possiamo risolvere geometricamente questa dualità questo paradosso come fa un oggetto essere sia la periferia che il centro attraverso le geometrie non euclidee con le geometrie non euclidee si riesce e quindi l'universo di Dante prende una forma molto più affascinante di quella teorizzata dal Caetani di cui parlavo prima ecco come vi avevo promesso e avete potuto constatare il nostro ospite di oggi è veramente eccezionale intanto parte Avalanga e da questa sua Avalanga di conoscenze si intuisce sia la preparazione ma anche la grande passione che l'ha guidato in questo volume che vi ricordo si intitola I Regni di Dante forma e dimensione dei regni ultraterreni nella Divina Commedia di cui vi ripropongo la copertina vi ricordo che è in ebook lo potete avere su IBS in questo periodo in versione scontata e anche potete comprarlo in forma cartaceo su Amazon questo è importante perché se qualcuno tra i nostri ascoltatori fosse interessato almeno sa come recuperarlo ecco se invece qualcuno fosse interessato a confrontarsi a contattarti come può farlo a parte utilizzare Facebook un blog mi hai detto c'è il blog sì che è iregnidanteblogspot.com dove io pubblico una serie di articoli che non sono strutturati in forma di dialogo ma che riassumono in tappe successive quello che viene descritto all'interno del libro quindi seguendo più o meno lo stesso filologico seguito nel libro quindi in questo blog ci saranno una serie di articoli che descrivono senza addentrarsi troppo nei dettagli quello che viene eh no se uno vuole i dettagli deve comprare il libro eh mi spiace non c'è altra via d'uscita soluzione se volete il libro potete acquistarlo su Amazon perché il libro è stato pubblicato come print on demand sarebbe bello se un editore all'ascolto decidesse di acquistarlo acquistare la bozza chiaramente e magari promuoverlo editarlo pubblicarlo e distribuirlo a livello nazionale noi lanciamo eh questo appello chissà che non ci sia qualcuno interessato diversamente questo è un volume adatto sicuramente a eh studenti con una che abbiano già una buona base una buona conoscenza ma che vogliono conoscere Dante Alighieri da un punto di vista diverso particolare eh ecco non eh tanto legato al contesto storico ma legato proprio a quel mondo metafisico da cui ehm Dante Alighieri sembra aver eh attinto per avere ispirazione di un qualcosa che non si è mai capito fino a che punto fosse sogno fosse realtà fosse intuizione secondo te da dove vengono queste queste forme queste dimensioni questi mondi che tu hai scoperto cercando di studiare il mondo ultraterreno di Dante beh analizzare le fonti dalle quali Dante trae ispirazione è tutt'altro che semplice io ho letto molto e lui si ispira moltissimo alla cultura islamica soprattutto nelle punizioni nei premi eccetera eccetera il che non è una contraddizione se uno pensa che il profeta sia stato messo nell'inferno tra 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 i peccatori più neri da una parte questo dall'altra c'è da dire che lui era un profondo conoscitore delle sacre scritture di Sant'Agostino di molti autori latini e di riflesso alcune opere greche si pensa che lui non conoscesse il greco quindi quello che lui sapeva della mitologia eccetera eccetera deve essergli arrivato per vie traverse basti pensare a come lui riesce a riorganizzare si passa il termine la vita di Ulisse l'Ulisse di Omero è diverso fa un percorso diverso da quello che fa Dante Alighieri questo non vuol dire che lui non conoscesse fino in fondo però aveva la possibilità di rielaborare e dall'altro dobbiamo ammettere e riconoscere che Dante doveva aver avuto un estro creativo molto particolare molto al di sopra della media se posso dire in questi termini quindi per rispondere alla tua domanda direi che sapeva fare buon uso delle informazioni che gli arrivavano e sapeva da una parte rielaborarle e organizzarle secondo me in uno schema di una coerenza assoluta veramente assoluta una cosa che mi ha fatto sempre pensare è che lui riesce a far dialogare le tre cantiche fra loro cioè alcuni aspetti che sono peculiari in una si riflettono con altrettanta importanza nelle altre questo quando lui faceva uscire nel pubblico una cantica per volta vale a dire che quando lui ha iniziato la stesura del purgatorio l'inferno era già circolava circolava il che vuol dire che non poteva rimettere mano all'inferno non poteva fare la correzione a meno che non l'avesse fatta prima ma una volta fatta circolare quella doveva essere così e quindi tutto quello che poi lui aveva intenzione di scrivere nel purgatorio che rispondesse a quello che era scritto nell'inferno aveva un bel da fare nel cercare di far combaciare tutto e così via poi anche nel paradiso quindi questo mi ha sempre lasciato molto stupefatto perché lui deve essersi assunto una grande responsabilità nel momento in cui ha fatto circolare l'inferno secondo me doveva essere veramente sicuro che quello che aveva scritto funzionasse alla perfezione per circolare non potendo poi più rimettere mano non poteva andare in giro a chi se l'era letto a dire no aspetta correggo me lo riprendo me lo rileggo e poi te lo ridò come vi avevo promesso in apertura di questa puntata il nostro ospite è veramente eccezionale preparato entusiasta piacevole da ascoltare lo terremo con noi ancora per parecchio ma purtroppo il tempo è scaduto io vi ricordo che potete comprare il libro su Amazon potete acquistare l'ebook su IBS vi ricordo anche che potete partecipare a Quarta di Copertina scrivendo a Deborah Bocchiardo chiocciola gmail.com e venire nei nostri studi in tutta sicurezza in Corso Italia 59 qui a Rivarolo Canavese ringraziamo tantissimo Raffaele Rinaldi che è stata veramente una sorpresa perché quando io sono stata contattata per presentare un libro sulla Divina Commedia ho detto oh mamma mia sarà noioso invece appena l'ho sentito parlare della sua opera ho accettato subito perché era veramente molto molto interessante complimenti per la tua ricerca ti auguriamo veramente di portare avanti ancora questo progetto e di approfondire ulteriormente magari venire a raccontare ancora al nostro pubblico quali sono i risultati delle tue nuove ricerche e dei tuoi nuovi studi grazie per essere stato con noi e a tutti quanti io auguro un buon proseguimento di giornata e un arrivederci alle prossime puntate qui su Obiettivo News